Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna liturgia ci presenta le ultime battute del discorso missionario del capitolo decimo del Vangelo di Matteo, con il quale Gesù istruisce i dodici apostoli nel momento in cui, per la prima volta, li invia in missione nei villaggi della Galilea e della Giudea. In questa parte finale, Gesù sottolinea due aspetti essenziali per la vita del discepolo missionario. Il primo, che il suo legame con Gesù è più forte di qualunque altro legame. Il secondo, che il missionario non porta se stesso, ma Gesù. E' mediante lui l'amore del Padre Celeste. Questi due aspetti sono connessi, perché più Gesù è al centro del cuore e della vita del discepolo, più questo discepolo è trasparente alla sua presenza. Fanno insieme tutte e due. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, dice Gesù. L'affetto di un padre, la tenerezza di una madre, la dolce amicizia tra i fratelli e sorelle, tutto questo, pur essendo molto buono e legittimo, non può essere anteposto a Cristo, non perché egli ci voglia senza cuore e privi di riconoscenza, anzi, al contrario, ma perché la condizione del discepolo esige un rapporto prioritario col maestro. Qualsiasi discepolo, sia un laico, una laica, un sacerdote, un vescovo, il rapporto prioritario. Forse la prima domanda che dobbiamo fare a un cristiano è «Ma tu ti incontri con Gesù? Tu preghi Gesù?» Il rapporto. Si potrebbe quasi parafrasare il libro della Genesi. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a Gesù Cristo. e due saranno una sola cosa. Chi si lascia attrarre in questo vincolo di amore e di vita con il Signore Gesù diventa un suo rappresentante, un suo ambasciatore, soprattutto con il modo di essere, di vivere. Appunto che Gesù stesso, inviando i discepoli in missione, dice loro «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato». Bisogna che la gente possa percepire che per quel discepolo Gesù è veramente il Signore, è veramente il centro della sua vita, il tutto della sua vita. non importa se poi, come ogni persona umana, ha i suoi limiti, anche i suoi sbagli, purché abbia l'umiltà di riconoscerli. L'importante è che non abbia il cuore doppio, e questo è pericoloso. Io sono cristiano, sono discipolo di Gesù, sono sacerdote, sono vescovo, ma ho il cuore doppio. No, questo non va. Non deve avere il cuore doppio, ma il cuore semplice, unito, che non tenga i piedi in due scarpe, ma sia onesto con se stesso e con gli altri. La doppiezza non è cristiana. Per questo Gesù prega il Padre, affinché i disceppoli non cadano nello Spirito del mondo. O sei con Gesù, con lo Spirito di Gesù, o sei con lo Spirito del mondo. E qui la nostra esperienza di sacerdoti ci insegna una cosa molto bella, una cosa molto importante. È proprio questa accoglienza del santo popolo fedele di Dio, è proprio quel bicchiere d'acqua fresca del quale parla il Signore oggi nel Vangelo, dato con fede affettuosa, che ti aiuta ad essere un buon prete. C'è una reciprocità anche nella missione. Se tu lasci tutto per Gesù, la gente riconosce in te il Signore, ma nello stesso tempo ti aiuta a convertirti ogni giorno a Lui, a rinnovarti e purificarti dai compromessi e a superare le tentazioni. Quanto più un sacerdote è vicino al popolo di Dio, tanto più si sentirà prossimo a Gesù. E quanto più un sacerdote è vicino a Gesù, tanto più si sentirà prossimo al popolo di Dio. La Vergine Maria ha sperimentato in prima persona che cosa significa amare Gesù distaccandosi da sé stessa, dando un nuovo senso ai legami familiari, a partire dalla fede in Lui. Con la sua materna intercessione ci aiuti ad essere libri e lieti missionari del Vangelo. Cari fratelli e sorelle, il 5 luglio ricorrerà la festa dell'indipendenza del Venezuela. Assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. faccio appello affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi. Nostra Signora di Coromoto interceda per il Venezuela e tutti noi preghiamo. Nostra Signora di Coromoto per il Venezuela Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto in particolare i fedeli irlandesi di Belfast e i giovani e i giovani del Stadtsdorf, Svizzera, che hanno da poco ricevuto il Sacramento della Confirmazione. Saluto i vari gruppi parocchiali e le associazioni, come pure i partecipanti al moto pellegrinaggio da Cardito, Napoli. e a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.